Buongiorno, salve, qui c'è un passaggio? Sì, sembrerebbe. Ma io ci posso passare per davvero? Sì, molto bene. Cos'è? Ehm, no? No, 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 aspetta, aspetta. Noi dobbiamo prima salire là sopra. Io poi non posso risalire dagli scivoli. Allora, fammi vedere se riusciamo. Adesso che abbiamo trovato un terzo gufetto. No, non è inquietante, no, no, ah, ah, tutto bene. Sì? Sì? Ehi, questa palla si è mossa da sola e qua ci sono delle impronte! Ci sono delle impronte? Dovrò seguire le impronte? No, ma qua ci siamo già entrati. Sì, è quella di prima, è quella di prima, ok. Quindi torniamo lassù. E vediamo se riusciamo a salire. Qui sta crollando tutto, mi sa. Ogni tanto vedo polvere. Allora. Tab, tieni, vai. Sappa, ok. Vediamo se adesso ci regge. No, ok. Io presumo allora che dovremmo trovarli tutti i gufetti. Quanti ne mancano? Altri tre. Altri tre. Vabbè, ma a sto punto... Niente, probabilmente dobbiamo buttarci là sotto e poi in qualche modo ci farà tornare indietro. Presumo, non lo so, non lo so. Che di qua non penso che ne troverò altri, ma io non mi voglio inoltrare qua. No, 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 non ci voglio andare lì, no, 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 no. Facciamo che andiamo per di qua. Ok, quindi niente. Banzai e proviamo a buttarci di qua. Aia. Aia. Oh, oh. No, come siamo in trappola? Quindi non dovevo passare di qui. Oh, oh. E mo? Ah, giusto, giusto. Possiamo utilizzare Teddy come fonte di luce. Teddy, vieni qua. Grazie. Non ci vedo una pena. Ma te ci pacca de roba. Ora ci cade tutto in testa, vedrai. Allora, lì lo gattona. Ah, no, ma se i gattoni sia inquietante. Sì. Sì. Uh, c'è roba lì, c'è roba lì, c'è roba lì. Aspetta, aspetta, aspetta. Arrivo, 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 arrivo. Andiamocene il più in fretta possibile da qui, grazie. Dove sei? Ok. Tutto bene. Grazie, vieni con me. Ah, di qua. Di qua, 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 via, 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 via. No, è bloccata. E quindi, come esco io da qui? No, dai, vi prego, fatemi uscire, che ansia. Qua ce n'è solo uno, guffetto. Forse per uscire devo trovare anche l'altro. Uh, altro disegno, altro disegno, aspetta. Sembra una di quelle gioche che hanno mamma e papà in casa. Ok, molto bene. Quei cappottoni da serial killer. Ottimo. Eh, però aspetta, Teddy. Fai il tuo lavoro, non ci vedo una cipalipa. Qui è ancora bloccato. Ah, no, aspetta. Ah, bastava togliere questa. Ok, ok, perfetto. Non avevo visto che c'era l'asse. Posso passare da qui? Mi fate aprire? No, ok. Va bene. C'è roba che vola nello spazio. Eh, da dove siamo usciti? Ah, da qui, da qui, ok, ok. Ho capito, ho capito dove siamo, ho capito dove siamo. Siamo un po' non ai rotoli, quindi è difficile anche orientarsi. Sì, ma sento suoni, sento suoni terribili e bruttissimi. Ok, molto bene. Allora, vai, tieni. Presumo che vorrei anche gli altri due, vero? Non me la fai passare liscia così? E infatti, ok, va bene. Speravo di no, e invece ci dobbiamo ancora andarcene in giro. Per questo luogo tetro e spettrale. Yeeey, che gioia. Ah, 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 sento fasi, sento rumori, sento voci, sento cose brutte. Ok, proviamo ad andare per di qua sto giro. Probabilmente troveremo qui gli altri due. Buongiorno. Ah no, ma di qua stiamo tornando indietro. Ah, porca paletta. No, 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 non torno indietro, sono... No, 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 no. Ah, ok, ok, aspetta, 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 posto nuovo, posto nuovo, zona nuova, là, là. Ah, goffetto, goffetto a me, goffetto, goffetto, come faccio a prendere il goffetto? Devo togliere sta pietra. Allora, aspetta che mi fa fare questa cosa. Eeeh, vediamo, vedo che posso afferrare questo. Ah, probabilmente questo se cade va contro la roccia e la fa scivolare giù, molto bene. Vai, vai, vai. No, non riusciamo, come cribbio si fa? Ah, forse dobbiamo salire qui, aspetta. Ok, così. E ora, ta-da! Là, fatto, molto bene. Si, baule, puoi rimanere aperto, però, grazie. Allora, disegnino mio e goffetto, molto bene. Ah, voci, voci. No, giochi che si muovono. Giochi che si muovono da soli. Ma perché? Oddio, guarda l'ombra di sto bimbo, com'è inquietante. Ah, ah! Qualcuno mi ha lanciato un pallone. Mamma, mi bullizzano, fai qualcosa. Intervieni. Di qua possiamo salire? No. Però me l'hanno lanciato da questa parte, giusto, il pallone. Quindi, forse era tipo un indizio, venite per di qua? Troverete morte certa? Può darsi. Allora, qua ci fa salire, vediamo. Sì, mi fa salire ancora, molto bene. Ok. Ah, almeno siamo un po' più in alto. Riusciamo a darci un'occhiata in giro? Sì, più o meno. Quelle radici si muovono. Secondo me sono tentacoli, non sono radici. Comunque qui non c'è una cipalippa, mi sa. Non vedo niente. Va bene, ci facciamo un giro sullo scivolo. Che bello. Un po' di divertimento prima di morire. Allora, dicevamo. Vai, posizionato. Vai, andiamo in esplorazione. Allora, rifacciamoci un attimo un giretto qui. Perché non so proprio dove potrebbe essere il prossimo giochino. Cioè, il prossimo... Stavo pensando, forse non è da qui che siamo arrivati. Perché comunque ci siamo fatti lo scivolo, giusto? Mmh, non lo so. Eh, aspetta, dove... C'era una roba per togliere da... Per sbloccarlo, no? Ah, no, non possiamo più passarci da qui. Però, aspetta... No, lì vedo un gufetto. È lì, è lì l'ultimo, è lì l'ultimo, è lì l'ultimo. Ok, devo riuscire a far girare sta roba. Cos'è che la tiene bloccata? Qui c'è un disegnino, devo salire qua, ok. Ah, quella roba non gira, quindi dobbiamo passargli intorno. Ok, là c'è un altro disegno, molto bene. Che ci rappresenta? Boh. Una pioggia gialla? Non voglio sapere di più, grazie. Eccolo qui, molto bene. Ultimo trovato. E ora gira, e ora gira, ovviamente. Eh, sì? Ok, aspetta, fammi salire, fammi salire. Ah, ah, perché sti bambini urlano? Sento bimbi che urlano. Ah, no, 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 non di nuovo, non di nuovo, non di nuovo. Dai, no, che cosa brutta. Dai, che ho trovato l'ultimo gufetto. Non mi avrete mai, vivo. Ok, molto bene, molto bene, molto rapidamente, tiani, ok, molto bene, perfetto, sì. Sì, 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 sì. Ok, ok, sali bimbo, sali bimbo, attento a non vedere. Ok. E mo? Mi posso arrampicare? Ah, sì, sì, ok. Sopra va più ripida la cosa. Ok. Si sentono passi, si sentono cose, eh, eh, ciao gufetti giganti, grazie, disegno, non ho guardato neanche cosa fosse. Qua c'è un'altra paletta, la lancio giù di sotto, no, che poi magari serve per qualcosa. Qui c'è una bicicletta, non possiamo andare, ah, ma è rugginita, no. Oh, guarda che bellino che è sto posto, sembra un po' meno inquietantino, no, forse perché è uno di quelle cose, tipo, ricordi. Ok. Ah, tutto bianco e nero, molto carino, sì. Mamma. Ah, l'ansia, però. Ok, questo è un altro ricordo, dammi il carion. E ciao, mamma, molto bene. Altro disegno. Eh, se. Va bene, noi ce lo pigliamo. Oh, guarda che bellino tutto colorato. Oh! No, ma è bellissimo. Aspetta, aspetta, rifacciamolo. Ok, ok, no, non lo faccio più, non lo faccio più. Mi sa che qualcuno ci ha appena sgridato, vai, facciamolo veloci, veloci. Ok. Qualcuno sta dormendo, meglio non fare rumore, forse. Ok. Ok. Da, da, sì, molto bene. Da cosa lo deduci? Dal fatto che c'è l'ennesimo tubo in cui dobbiamo infilarci senza la supervisione di un adulto responsabile? E... Ciuuu! Che bello, yeah. Cosa ci aspetterà qua sotto? Stiamo andando sempre più sotto la casa, comunque, eh. Sì. Ma... Ma no! Non abbiamo fatto niente, mamma, non l'abbiamo ancora trovata. Non abbiamo risolto una cippa. Ciao, orsetto, torna in braccio. Grazie. Caro, caro, sì, bravo, bravo. Ok. Vedo l'ora di restiturti al mittente. Io continuo a ribadire che è tutta colpa tua. È tutta colpa tua. No, perché si apre da sola la porta. Ok. Va bene. Eccoci. Buongiorno. Ciao, ciao, Teddy. Ma come sarà così in pensiero per me? Sì. Mi sento molto più tranquillo, pupazzo parlante indemoniato. Grazie. Qui cosa c'è? Ah, niente, molto bene. Ma, scusami, ora non c'entra nulla. Ma io posso, tipo, mettere a posto i giochi? Uh! Volendo sì. Volendo sì. Là. Ah, che bello. Guarda come siamo bravini. Belli ordinati. Ok. E dicevamo. Allora. Vai. Pigliati pure il carrion. Cioè, sta roba si alimenta ricordi. Ok. Vai, chiudi. Molto bene. Giriamo la ruota. Gira la ruota. Gira la ruota. Oh, 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 oh. Succedono cose. Dobbiamo ripremere i pulsanti? Sì. Ah, 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 ah. No, sembra più inquietante. Ma, c'è, mi devo infilare qua dentro davvero? Vabbè, sì, ormai, tanto. Vieni in braccio, Lillo. Io non sono molto convinta di volerla ritrovare sta mamma, però, eh. Poi sarà un pensiero per te. Mi ha abbandonato lei. Fai tu. Sì. Grazie a tutti.